Come abbiamo scelto di partecipare come azienda al programma di mentorship della Camera di Commercio di Torino perché crediamo moltissimo nella potenzialità dell'apprendimento tramite l'esperienza di chi ci ha preceduto. Il nostro focus principale era quello di capire se Codex ha le potenzialità necessarie per entrare nel mercato degli Stati Uniti. Abbiamo lavorato insieme per trasportare quello che era uno shop online piccolo e assolutamente ci si è detto in maniera artigianale, un po' come tutta la nostra azienda, ad una dimensione più manageriale. Del nostro mentor Matteo abbiamo apprezzato moltissimo la schiettezza con cui ha affrontato gli argomenti, ci ha saputo indicare sicuramente una strada, dare dei consigli, ogni tanto qualche critica ma sempre in maniera molto molto costruttiva. E quindi lui ci ha aiutato veramente non solo a capire le dinamiche del mercato ma anche a capire delle dinamiche aziendali, di relazione fra aziende, di relazione fra persone, alla fine sono le persone che fanno le aziende. Quello che ha caratterizzato la relazione Medi Giovanni nel mentorship è stata una forte onestà fondamentalmente, quindi la consapevolezza che tante volte le cose che non funzionano devono essere dette e che anche se non fanno piacere in realtà sono poi lavorando su quelle che si risolvono veramente i problemi e si raggiungono gli obiettivi. È un'esperienza che consiglio assolutamente, non è un'esperienza legata alla grandezza o alle capacità dell'azienda, è una relazione con l'imprenditore. Grazie. Grazie. Grazie.